Il giorno dopo c'è un elemento di discussione rispetto alla vittoria con il Lecce, ben trovati intanto. Perché? Perché ci troviamo di fronte ad un enigma, ad un rebus, ad un dubbio grosso ed evidente e non soltanto io ma tutto il mondo bianconero si interroga su Miretti. Per quale motivo questo ancora gioca nella Juventus? Per quale motivo questo continua ad essere un giocatore piazzato anche titolare nella Juventus? Per la verità in Italia sono stato il primo a nutrire dubbi su Miretti. È oltre un anno che mi sto battendo sulla mancanza di qualità di questo elemento, di questo soggetto che gioca, lo sappiamo tutti, perché è praticamente dello stesso procuratore di Allegri, cioè Branchini, ma questo poteva essere anche accettabile e non era accettabile quando la Juventus non lottava per un posto importante di riguardo. Oggi purtroppo la Juventus, no purtroppo, per fortuna la Juventus sta per vincere lo scudetto, soltanto i grandi aiuti arbitrali all'Inter e qualche errore e gli errori di Allegri la tengono lontana da una matematica, quasi matematica, un po' come il Napoli dell'anno scorso, cioè se non ci fossero stati tutti gli aiuti arbitrali a favore dell'Inter la Juventus oggi avrebbe vinto lo scudetto e ci sarebbe anche lì una certa giustificazione nel far giocare questa marchetta, questa bobbazza di Miretti. Sai, 10-15 punti avanti lo puoi rischiare, ma non c'è motivo in questo momento di regalare un'ora agli avversari, un tempo, un'ora, 50 minuti agli avversari, non esiste, non c'è motivazione che tenga, perché è molto grave, vi dico molto grave quello che si sta verificando. Ieri è stata palese in una maniera incredibile, incondizionata, si vede che la Juve gioca oltre che uno in meno, due in meno perché tu puoi regalare un giocatore agli avversari, ma non tre, perché con Locatelli e Miretti ne regali tre agli avversari, Locatelli è profondamente scarso, però sai con Mecceni, con Rabiot, diciamo Sarrabatta riesce a cavare qualcosa, mentre il titolare a mio avviso sarebbe Nicolussi Caviglia, questo addirittura mette Miretti al posto di Rabiot per i disastri, i danni che ha fatto, in Lecce a un certo punto sembra avere Real Madrid con Miretti in campo, appena è uscito Miretti è cambiata la musica, è cambiato tutto, la Juve ha recuperato tre giocatori, ha coperto meglio il campo, addirittura Cambiasso che ha preso il suo posto, perché poi Cambiasso ha preso il suo posto, ha dato la palla al gol del primo gol, ne stava dando altre, cioè in pratica non si può giocare con la storia della Juventus, Miretti rappresenta un grande dubbio, un vero dubbio che oggi tutto il popolo bianconero si chiede, a parte Claudio Giuliani che parla bene di Miretti, ma noi sappiamo che Claudio Giuliani parla bene a prescindere e quindi non fa testo Claudio Giuliani, oggi a parte Claudio Giuliani tutta l'Italia bianconera si chiede come mai, come mai questo è ancora un titolare della Juventus, gioca nella Juventus, perché? E allora se il motivo è la truffa, chiara ed evidente, che mette in piedi Allegri, perché è del suo stesso procuratore, perché si tratta di una truffa, si tratta di una marchetta, si stanno truffando i tifosi della Juventus, si stanno truffando gli scommettitori, si stanno truffando le televisioni, o voi pensate che soltanto gli arbitri e il VAR truffa tutto il sistema calcistico, è una truffa anche far giocare uno come Miretti, perché non puoi mai sapere, è palesemente scarso, e allora che c'è sotto? Che cosa c'è sotto su Miretti? È troppo scarso per essere impiegato, anche la società che non interviene, anche Giuntoli, cioè questo è diventato il padrone della Juventus, Allegri, è proprio il padrone, fa quello che vuole, cioè rischia di farci perdere uno scudetto vinto, perché in questo modo rischia di farci perdere uno scudetto vinto, fra l'altro sappiamo benissimo che è colui che ha messo il veto sull'arrivo di un centrocampista nuovo, a parte che ne ha cacciato Arturo e Zaccaria, ora mette il veto affinché venga un buon centrocampista in modo da poter sostituire Meccanio, Miretti nella fattispecie o giocare insieme a loro, io farei giocare Nicolussi Caviglia che per me è quello che dà più equilibrio alla Juventus, lo ha dimostrato, quello che fa crescere la squadra, la tiene alta, sa come distribuire il pallone, ma fino a quando giocherà all'Ocatelli, la Juve rincula sempre, perché quello è un difensore aggiunto, non ti far mai ripartire la squadra e per di più ci metti Miretti vicino che è un, ma avete visto non ha manco la forza di giocare, ma ci rendiamo conto che questa è una truffa calcistica? ci rendiamo conto che questa è una barahonda calcistica? L'unico motivo per il quale questo gioca è perché ha lo stesso procuratore di Branchini, ma non è più possibile, non si può giocare con la storia della Juventus, la società deve prendere provvedimenti, su Miretti vanno presi provvedimenti, è gravissimo che uno come questi ha potuto fare oltre 60 presenze nella Juventus, è di una gravità enorme, non gioca nemmeno nell'Under 21, c'è uno che fa oltre 60 minuti di partite nella Juventus, dovrebbe almeno giocare nell'Under 21? No, è riserva, lo chiamano giusto per numero, perché ha fatto 60 presenze nella Juve, è un giocatore inqualificabile, è totalmente inqualificabile, fra l'altro ieri sera gli si presentavano anche degli spazi, ma lui non ce la fa proprio, ma davvero pensate che Allegri non vede questo? E allora sotto c'è qualcosa che non va, sotto c'è qualcosa di molto grave, di molto malconcio sotto tutti i punti di vista, personalmente io ribatto questa cosa, non ci sto più, è di una gravità enorme, è totalmente grave quello che si sta verificando, è scandaloso, è vergognoso, è un fatto gravissimo. Non si può andare più avanti in questo modo, non si può andare avanti in questo modo, a mio avviso bisognerebbe risolverla questa questione, perché fino a quando ti può andare bene? La Juve ha il migliore organico del campionato, ma lo dimostra ogni partita, ogni partita nonostante le defezioni che sono gravi, Lecce era una partita importantissima, Lecce è una buona squadra, molto fisica, molto forte. Ebbene, quando la Juventus si è tolto il peso Miretti, era un'altra squadra, ma probabilmente può essere una coincidenza, perché la dinamica delle partite, ma è sempre una coincidenza, appena esce questo Miretti la Juve vince? È sempre una coincidenza, è sempre una coincidenza che questo quando gioca titolare la Juve non vince, e lo tiene sempre in campo, ma c'è qualcuno che pure in conferenza stampa per sfiggio glielo chiede, o donete tutti la museruola, o davvero non esiste più libertà di parola, libertà di stampa, libertà di vedute, cioè non è che vicino ad Allegri si può dire ma per quale motivo gioco il suo scarsone, perché dai una motivazione perché fai giocare questo scarsone, oltre 60 presenze nella Juve non sa fare un passaggio, ha messo a rischio la Juventus con dei passaggi in orizzontale, con mancati dribbli, ma non ce l'ha, non ha manco l'intelligente, c'è un ragazzo intelligente, no è anche dal punto di vista calcistico uno stupido, perché dai quella palla in orizzontale e sei uno stupido dal punto di vista calcistico, non arriva mai sul pallone, non ha la forza fisica, è un mingerlino, può giocare nella Juve Miretti, ma non scherziamo, la questione di Miretti è molto grave e una versione grave rappresenta sicuramente il giorno dopo, perché lui dice vuoi trovare il pelo nell'uovo, non voglio trovare il pelo nell'uovo, ma è sotto gli occhi di tutti, per un'ora la Juventus ha messo a rischio la partita, chi di voi pensava che a fine primo tempo la Juve poteva vincere? Io no, poi con quell'arbitraggio è stato scandaloso, e qui parlano di un rigore a Lecce, quando c'è un rigore netto alla Juve nel primo tempo, quando vai ad ammonire McKennie dopo un contrasto al primo fallo, che scherziamo? A fine primo tempo un fallo di Bremen, non chiamato sulla tre quarti, si sbracciavano dalla panchina, cioè sono pure in mala fede, perché Lecce non ha protestato quando gli hanno dato il rigore a Milano e il VAR l'ha tolto, a braccia aperte, perché? Perché il Lecce non ha protestato? Fatemi capire, per quale motivo non ha protestato il Lecce? Perché si stanno zitti, perché lì è l'epicentro del sistema a Milano, allora vanno a Milano, le prendono sulle rette e si stanno zitti, questa è la verità, e allora D'Aversa, che è un buon allenatore, attenzione, è l'altro in panchina che l'arbitro ha dovuto espedere, per un fallo di Bremen, non chiamato perché c'era un fallo a centro campo, si sbracciavano dalla panchina, dopo che l'arbitro aveva combinato quel poco nel primo tempo, allora devi essere Lautaro per chiamare quei rigori, fatemi capire, solo Lautaro chiamano quei calci di rigore, è un problema serio, Lautaro è un grande verme, perché quello che fa Lautaro è gravissimo, come lo tocchi salta in aria di rigore e gli arbitri, tutti quanti, perché sono indrezzati, fischiano rigore, e mica è possibile questo? C'era una spinta, probabilmente, sul Lecce, ma davvero potete pensare che quello è calcio di rigore? E allora siete dei delinquenti tutti, anche nella narrazione della partita, la Juventus nonostante un cattivo gioco, nonostante Miletti nel primo tempo, con McKennie poteva segnare, poteva subire anche un gol con quel tiro fuori aria, ma francamente non abbiamo visto, chissà, quale azione del Lecce, questa dimostrazione del fatto che la Juventus, nonostante Allegri, è una squadra molto forte, con buoni giocatori, hanno segnato ieri sera due che costano 140 milioni in due, 90 Vlaovic e 50 Bremer, non è che qui sono i giocatori pagati fior di quattrini, quindi il problema Miletti è grave, ma c'è anche un problema sistema, il Lecce non può fare quello, ieri avevano scomodato tutto un protone di esecuzioni, Doveri, Valeri e Abisso, mi devono spiegare perché quando l'Inter va fuori casa, arbitrarono sempre gente inesperta, mentre quando va la Juventus fuori casa, sempre quelli internazionali, sempre quelli là, perché? Anche questo è di una gravità enorme, anche questa vicenda è di una gravità enorme, aiutano l'Inter in tutto e per tutto, a tutti i livelli, mi fermo qui, problema Miretti, problemi scandalosi contro la Juve, gli atteggiamenti contro la Juve sono molto gravi, Lecce ha sbagliato ieri sera, per un fallo la panchina si stavano facendo prendere per i pazzi, e non si fa così, cioè siete proprio, Lecce è una città che adoro, Lecce è una squadra che amo, per alcuni trascorsi, che tanti Juventini ricorderanno, però francamente comportarsi così non è parso bello, comunque chi ha sbagliato di più ieri sera è stato Allegri, chi si è presentato con Miletti titolare, questo è stato molto grave, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vecicchi, attivare la campanella delle notifiche, mettere un like se lo ritenete opportuno, alla prossima! Grazie!